Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti al webinar sul quantum computing organizzato nell'ambito, diciamo, della collaborazione tra la CUE e IBM. Vi ricordo che svolgiamo questo tipo di attività e quindi con una certa periodicità questi incontri, che sono degli incontri, diciamo, di approfondimento e di informazione a corredo dei contratti sottoscritti dalla CUE, quale stazione appaltante per il sistema universitario in ambito ICT e, diciamo, fanno parte di una serie di attività che la CUE, in questo caso IBM, portano avanti in un protocollo d'intesa volto, diciamo, a divulgare competenze e informazioni digitali, diciamo, tra le università che partecipano. Vi ricordo che questo incontro è registrato, sarà poi reso disponibile sul sito della CUE, così come con le domande che potete rivolgere a Federico Mattei di IBM e a noi relativamente ai temi che tratteremo, le domande che potete rivolgere nella Q&A, alle quali risponderemo oggi stesso. Adesso Federico Mattei ci descriverà brevemente, poi intererà nel vivo. Comunque divideremo in tre blocchi e quindi pensavamo di raccogliere le vostre richieste nella Q&A e di rispondere appunto alla fine di ciascun blocco. Pubblicheremo tutti i vostri contributi senza alcuna censura, purché non siano anonimi, quindi vi prego di scrivere il vostro nome nell'apposito box della Q&A e purché non siano offensivi. Tutto adesso sarà chiaramente pubblicato e vi risponderemo nell'arco di questa sessione. Per il momento non ho raggiungere, quindi passerei la parola a Federico Mattei di IBM. Buon pomeriggio. Grazie mille Jürgen, vorrei ringraziare tutta la Fondazione Crui per averci ospitato con questo seminario, ovviamente ringrazio tutti voi per dedicare quest'ora al quantum computing. Dunque io sono Federico Mattei, in IBM svolgo il ruolo di Innovation Manager e ho anche questo ruolo di IBM Quantum Ambassador, un ruolo di collegamento tra IBM Italia e IBM Research, che è la divisione di ricerca e sviluppo di IBM all'interno della quale sono stati sviluppati i primi computer quantistici. Come diceva appunto Jürgen, l'agenda è suddivisa in tre temi, alla fine di ognuno di questi raccoglieremo alcune delle domande sulla Q&A e risponderò rapidamente. Se avete delle domande magari un pochino più tecniche a beneficio di tutti e che richiedono una risposta più lunga, risponderò a valle dell'incontro e non durante in modo da avere un rispetto dei tempi. Comunque tutte le domande saranno risposte qui o successivamente. Dunque il primo argomento è un overview sulla computazione quantistica, molti di voi so che già lavorate su questo tema e quindi sarà semplicemente un primo in dieci minuti per allineare tutti, anche quelli di voi che ancora non hanno affrontato questo tema e mettere tutti diciamo allo stesso livello. Nella seconda parte invece andremo a vedere qual è l'offerta di IBM sia da un punto di vista dei sistemi che dal punto di vista del software framework ed infine avremo una sezione dedicata alla collaborazione, come possiamo lavorare insieme appunto sui sistemi e sugli ambiti di ricerca per poter lavorare appunto allo sviluppo della computazione quantistica. Quindi questi sono i tre argomenti, vado direttamente al primo. Dunque prima di entrare nella computazione quantistica il nostro punto di vista sul quello che sarà diciamo la computazione del futuro vede una collaborazione quindi non una sovrapposizione tra di loro ma appunto una collaborazione tra tre modelli di computazione diversi. Il primo quello a noi tutti noto dell'informatica classica che prende ispirazione dalle regole matematiche della logica principalmente legato ai bit ed è l'informatica che appunto che tutti conosciamo e utilizziamo. Il secondo ambito sulla destra quello dei sistemi di intelligenza artificiale che trae ispirazione dai modelli più biologici, di reti neurali in cui la programmazione non è più a regole ma utilizzando diciamo meccanismi di machine learning e di tutti diciamo gli algoritmi che sono collegati a questi sistemi. E invece la terza componente che appunto di cui oggi parliamo che è quella più emergente è quella che trae ispirazione dei principi della fisica ed è la computazione quantistica proprio quello di cui parliamo oggi. Ne parliamo oggi e diciamo se ne sente molto parlare in questi ultimi anni anche se è un tema molto noto diciamo già dagli anni 80 questa è una tra le prime conferenze sulla fisica della computazione e che si è tenuta dall'MIT e diciamo la report c'è anche era anche presente Richard Feynman ed è questa foto è stata scattata da Charles Bennett che è tutt'oggi un dipendente IBM di Yorktown nel nostro centro di ricerca negli Stati Uniti. Parto proprio da Richard Feynman nel quale diciamo con il suo linguaggio colorito aveva sottolineato in maniera chiara come non abbia senso simulare i sistemi naturali come appunto quelli guidati dalla meccanica quantistica con un modello di computazione classico quindi a regole tipico dell'informatica che utilizziamo anche oggi. Ci sarebbe bisogno di un modello computazionale che faccia leva sui principi della meccanica quantistica ed è proprio seguendo questa diciamo intuizione che cerchiamo di capire intanto come può essere costruito questo nuovo modello. Giusto per capirci, per capire perché Feynman dice una frase del genere dobbiamo immaginare che per sempre seguendo diciamo il tema della quantum chemistry e della chimica e della fisica quantistica anche se poi vedremo che non sono gli unici ambiti di applicazione della computazione quantistica e vediamo che per una rappresentazione delle configurazioni energetiche di una molecola diciamo di medie dimensioni abbiamo bisogno di un numero di bit enorme, stiamo pensando alla disposizione degli elettroni in tutti gli orbitali della molecola e diciamo la sua configurazione esatta quindi non stiamo parlando di approssimazioni ovviamente sappiamo che con calcoli approssimati riusciamo a conoscere molto di queste molecole però diciamo volendo fare un esercizio per una rappresentazione esatta abbiamo bisogno di 10 alla 48 bit che è un numero elevatissimo e giusto per fare una rappresentazione se facessimo un'equazione atomo bit cosa che tra l'altro non è realistica nel senso che per fare un bit servono più di un atomo e avremo bisogno di una fetta di terra molto consistente in pratica dovremmo costruire un computer grande quanto una piccola luna mandarlo in orbita soltanto per per rappresentare questi questi livelli scusate la semplificazione insomma per tutti quelli di voi che invece lavorano su questa materia ma diciamo vuole essere un'introduzione divulgativa ecco per riuscire a indirizzare questo tema e prendendo appunto spunto dalla legge della meccanica quantistica il primo punto di che cambia tra l'informatica che io chiamerò classica appunto quella che studiamo tutti i giorni nell'architettura di von Neumann e che si basa come portatore di informazione base sul bit che può assumere due valori 0 ed 1 andiamo a sostituire ad utilizzare invece un bit quantistico bit quantistico si comporta come secondo le proprietà delle particelle quantistiche quindi è possibile mettere in stato di sovrapposizione e farlo entrare in uno stato di sovrapposizione quindi in pratica metterlo in uno stato che è una composizione lineare con coefficienti complessi degli stati classici in questo caso due che vado a rappresentare che cosa vuol dire questa cosa vuol dire che ho un immensa quantitativo di informazione anche sul singolo portatore di informazione in più rispetto al al bit classico faccio un esempio banale se io dovessi scrivere la mia posizione sul globo all'interno di un solo bit potrei soltanto dire se mi trovo nell'emisfero nord o nell'emisfero sud della terra non avrei altre informazioni ovviamente avendo più bit posso scrivere le mie coordinate in maniera estesa con un singolo qubit io posso diciamo fare l'encoding della mia posizione in maniera esatta ovviamente avendo un qubit perfetto e in un singolo qubit come vediamo qui quindi rappresentato con la sfera di bloc l'informazione inserita all'interno di un qubit può essere rappresentato come un punto su una sfera unitaria tra poco vedremo che poi intervengono tanti altri problemi come quello di misura e via dicendo ma per adesso vi lascio su questo punto quello che diciamo è stato calcolato è che la stessa molecola di caffeina che dopo pranzo tra l'altro ci viene anche in aiuto di cui parlavamo prima e stavamo parlando di 10 alla 48 bit può essere rappresentata in soltanto 160 qubit e ovviamente diciamo logici puri adesso vedremo poi come vengono realizzati quelli quelli fisici come vi dicevo la sovrapposizione non è l'unica proprietà della macchina quantistica che andiamo ad utilizzare all'interno della computazione quantistica il primo punto che che vediamo qui dopo il principio di sovrapposizione sono le proprietà di misura della meccanica quantistica in particolare come probabilmente la maggior parte di voi sanno questo stato quantistico che qui viene rappresentato sulla sfera di bloc quando viene misurato quindi si effettua una misura su questo stato l'output è di tipo probabilistico e può essere 0 o 1 con una certa probabilità diciamo che se io avessi fatto l'encoding nella mia posizione al momento mi trovo a roma e avrei vuoto per pieno un 70 per cento di ottenere lo 0 quindi il polo nord e un 30 per cento di avere il polo sud ovviamente devo fare tanti di questi qubit con questo encoding e misurarli per avere una distribuzione di probabilità già questo cominciate a vedere cambia molto l'approccio da una computazione di tipo estremamente deterministica come quella che abbiamo nella computazione classica passiamo ad un modello che invece è di tipo probabilistico il terzo elemento è quello dell'entanglement una proprietà quantistica molto complessa lo stesso Einstein aveva avuto diciamo vari problemi a parte diciamo il paradosso di potoschirosa anche lui stesso ha enunciato l'entanglement è una proprietà delle particelle quantistiche di entrare in una correlazione molto stretta in pratica di diventare due particelle o più di due uno stesso campo una stessa entità questa correlazione tra particelle può essere sfruttata all'interno della computazione quantistica per rendere molto più veloci gli algoritmi e per implementare dei meccanismi di calcolo che non esistono nella computazione classica come avrete intuito anche i gate logici cambiano quindi non abbiamo più l'end l'ore il not insomma quelli che conosciamo per l'informatica classica ma abbiamo degli operatori unitari che agiscono sui qubit quelli più semplici della maggior parte sono delle rotazioni lo spostamento diciamo dello stato su questo su questa sfera di raggio unitario adesso ovviamente non entrano nel dettaglio ma questo serve solo per far capire come la meccanica quantistica cambia alla radice la computazione quindi non sono solo nuove macchine sono anche nuovi linguaggi e anche nuovi algoritmi infatti per poter beneficiare della computazione quantistica devo andare a far leva chiedo scusa su questi su dei principi che sono tipici della meccanica quantistica come ad esempio il principio di interferenza molti degli algoritmi che già conosciamo per computer quantistici fanno leva sul principio di interferenza per andare a identificare la risposta al problema che stiamo cercando di indirizzare questi sono diciamo gli ingredienti gli ambiti in cui noi ci aspettiamo di trovare vantaggio utilizzando la computazione quantistica macro ambiti ovviamente stiamo parlando sono principalmente i quattro che vedete qui rappresentati del primo già abbiamo parlato quindi principi fisici sia che riguardano la chimica quantistica che per riguardo riguarda diciamo ovviamente la fisica il secondo ambito sono le simulazioni di scenario che entrano anche e molto nei temi per esempio di scenari economici e quindi anche per quanto riguarda tutta la parte finanziaria di analisi del rischio e via dicendo non solo ovviamente il terzo ambito è quello dei problemi di ottimizzazione tutte le volte che abbiamo una funzione di costo per la quale dobbiamo andare identificare un uno stato che massimizza minimizza diciamo ha delle proprietà particolari ed infine l'applicazione a sistemi di intelligenza artificiale e machine learning alcuni degli algoritmi che rientrano all'interno di questa di questa grande famiglia noi ci aspettiamo e già abbiamo visto che in alcuni casi è così avranno vantaggio a girare su computer quantistici diciamo che possiamo cercare un denominatore comune in tutti questi ambiti pensando al fatto che noi in realtà in un computer quantistico abbiamo sempre in input diciamo qualche cosa di classico e in output cioè la lettura la misura è sempre qualcosa di classico questo diciamo abbiamo detto poco fa il grande valore è durante il calcolo durante il calcolo io quella ricchezza di informazione che abbiamo visto sulla sfera di bloc e quindi ne beneficiano tutti quei problemi in cui io devo andare ad analizzare un vastissimo numero di scenari di configurazioni di stati di sistemi durante il calcolo per poi andare a convergere o identificare utilizzando magari meccanismi di interferenza come si diceva prima su singoli stati o piccoli raggruppamenti di questi stati che può essere il percorso che minimizza diciamo il tempo tra più punti che può essere lo scenario economico che la cui evoluzione minimizza il rischio e via dicendo ecco io su questa parte qui che è la parte introduttiva a cui ho dedicato diciamo più o meno un quarto d'ora mi fermerei un secondo e chiederei agli organizzatori se ci sono delle domande a cui posso rispondere subito perché da qui in poi andremo a vedere la realizzazione dei sistemi quantistici da parte di IBM e anche come poterli utilizzare quindi da qui in poi si apre un nuovo capitolo non so io ci sono domande specifiche hanno soltanto chiesto com'era comprensibile informazioni di servizio cioè se questo incontro sarà registrato se il materiale sarà disponibile e quant'altro va bene allora a questo punto dopo è scontato lo spero proprio di aver convinto tutti dell'importanza di questo nuovo modello in complementare ripeto complementare alla computazione classica vedremo che nella maggior parte dei casi il computer quantistico collabora con il computer classico il computer classico prepara diciamo il calcolo da effettuare con il computer quantistico e poi interpreta il risultato della macchina quindi sono praticamente delle macchine che sono molto performanti in settori in algoritmi abbastanza specifici ma entrambi collaborano non ci aspettiamo in nessun modo un futuro in cui ci saranno solo computer quantistici veniamo al secondo capitolo la seconda parte della presentazione a questo punto anche quelli di voi insomma che già lavorano sul campo avranno magari vedranno qualche qualche novità anche quelli che già collaborano con noi qui parliamo di come IBM sta realizzando realizzato i computer quantistici quindi dalla foto che abbiamo visto all'inizio del 1981 è passato molto tempo devo dire tantissimo tempo la teoria era nota ma realizzare degli oggetti fisici che si comportino come il qubit di cui diciamo abbiamo raccontato poco fa non è affatto facile lo sanno tutti quelli che che lavorano ogni giorno sperimentalmente su questi sistemi ci sono vari modi di realizzare i qubit da un punto di vista fisico ci sono dei modi lasciatemi dividere in queste categorie ci sono dei modi microscopici quindi andando ad agire sul singolo ione sulla singola particella tipico esempio per esempio sono i computer ad ion trap trappole di ioni c'è un filone invece legato al quantum optics quindi da un punto di vista ottico che sono anche un buon modo per poter lavorare a temperature diciamo ambiente a temperature gestibili perché? perché invece il metodo che abbiamo scelto e che molti diciamo delle aziende che stanno lavorando su questo tema stanno percorrendo è un modo macroscopico di realizzare i qubit utilizzando dei superconduttori in particolare qui parliamo degli oggetti che si chiamano trasmoni sono delle giunzioni Josephson che ci permettono di capire esattamente quali sono i distanziamenti di livelli energetici tra il livello base, il primo livello e gli altri livelli eccitati il livello 0 diciamo del qubit è considerato lo 0 classico e il primo livello eccitato il primo livello energetico è considerato l'1 dello stato classico questi oggetti possono entrare in stato di sovrapposizione possono essere messi in entanglement tra di loro qui nella fotografia che vedete qui a sinistra vedete un piccolo chip i quadratini sono i qubit 1, 2, 3, 4, 5, 6 qubit che sono a loro volta collegati da questi diciamo serpentine che sono i resonator così vengono chiamati che servono sia per mettere in entanglement i qubit sia per fare la lettura e il controllo dei qubit stessi già vedete che la topologia è di tipo planare quindi in una situazione fisica solo alcuni qubit possono entrare in collegamento con i propri vicini e quindi per entrare in collegamento e quindi anche in entanglement con un qubit dall'altra parte del processore bisogna fare bridge fare ponte sugli altri qubit questi superconduttori ovviamente come tutti i superconduttori a maggior ragione in questo caso in cui devo essere in grado di misurare il livello 0 il primo livello eccitato di queste giunzioni e devono lavorare a temperature bassissime quindi queste immagini che sempre si vedono dei computer quantistici in realtà sono dei grossi frigoriferi che mantengono la temperatura intorno ai 10-15 millichelvin temperatura alla quale lavorano questi computer quantistici a superconduttori queste sono le topologie dei computer quantistici IBM dal 2016 il 2016 è la data in cui IBM Research quindi la nostra divisione di ricerca e sviluppo ha deciso di pubblicare sul cloud i propri processori quantistici e da quella data in poi tutti possono utilizzarli con molti di voi già stiamo facendo o voi in maniera indipendente o con il nostro supporto lezioni all'università utilizzando veri processori quantistici messi in cloud da appunto da IBM Research i primi sono quelli che vedete sotto ogni pallino è un qubit ogni linea sono le possibilità di entanglement il modo di metterli in correlazione e questi diciamo preprendono il nome la tipologia di processore quindi il numero di qubit da uccelli e il singolo processore da città che non vuol dire che risiedano in quelle città ma sono semplicemente nomi dati per chiamarli i primi processori canari erano da 5 qubit sono tuttora a 5 qubit e hanno le due topologie che vedete in basso abbiamo poi la topologia a 16 qubit dell'Albatross che vedete subito sopra e questi che vi ho appena fatto vedere sono processori a disposizione di tutti dal 2016 in realtà l'Albatross è arrivato l'anno successivo ma diciamo dal 2016 in poi fino ad oggi ed ancora oggi sono a disposizione di tutti i processori Penguin sono i processori da 20 qubit e come vedete hanno avuto una grande evoluzione dal punto di vista della topologia inizialmente avevamo iniziato facendo dei processori come l'Austin che era molto connesso e abbiamo scoperto che questa grande connessione creava molto cross talk tra i qubit quindi i qubit entravano in stato di entanglement tra di loro con una facilità troppo alta e meno controllata e siamo dunque arrivati ad una topologia di tipo esagonale come quella che vedete di Almaden Bablingen e Singapore che invece ottimizza questo fenomeno di interferenza interna nel processore e inoltre permette di implementare degli algoritmi di error correction che avvicinano i qubit fisici che sono questi che vediamo al qubit logico che è quello di cui abbiamo parlato all'inizio della presentazione sulla destra vediamo il processore a 53 qubit Rochester che appunto è la generazione successiva noi dal 2000 e dalla fine del 2018 e 2019 abbiamo cominciato a creare dei processori quantistici di computer quantistici quindi non solo il processore ma tutta l'infrastruttura che c'è intorno non soltanto per i nostri laboratori a disposizione del pubblico ma pensati per l'utilizzo esterno sempre in cloud al momento non vendiamo processori quantistici fisici ma diamo accesso in cloud però la svolta importante è che abbiamo messo a disposizione delle macchine quindi queste macchine non sono ad uso dei nostri ricercatori e on top di chi è fuori ma sono delle macchine dedicate ai clienti e alle università la roadmap che è stata annunciata giusto un paio di settimane fa quindi questa può essere una novità anche per quelli di voi che già collaborano con noi e conoscono bene diciamo quello che facciamo magari già lo usano la roadmap che è stata presentata è quella che vedete oggi quindi noi adesso nel 2019 abbiamo questo processore Falcon da 27 qubit e l'anno scorso scusate quest'anno nel 2020 il 65 qubit annunciato credo un paio di mesi fa e vedete gli esagoni diciamo la texture a mattone è quella architettura di tipo esagonale che avevamo già visto prima la topologia di tipo esagonale che sembra essere quella migliore al momento ci promettiamo il prossimo anno di avere un processore Eagle da 127 qubit e l'anno successivo da 433 per arrivare nel 2023 a superare i 1000 qubit con il processore Condor e la roadmap punta ad avere dei processori che arrivino al milione di qubit avendo questo numero di di qubit ci aspettiamo veramente di poter avere un vantaggio quantistico ad utilizzare questi processori sia nella ricerca che nel business per ospitare processori da 1000 fino a un milione di qubit oltre ai processori stiamo anche realizzando dei refrigeratori diciamo dei dilution refrigerator di una grandezza enorme li vedete qui nell'immagine che siano in grado appunto di ospitare questo questo tipo di processori ovviamente i i frigoriferi che avevate visto prima non sono in grado di ospitare processori di queste dimensioni dunque fino adesso io ho parlato del numero di qubit diffido di parlare solo di quello perché è molto importante anche guardare agli errori di misurazione di applicazione dei gate di coerenza ci sono tante tipologie di errori e di rumore che intervengono all'interno di questi processori quantistici ma come vedete stiamo lavorando moltissimo anche su questo fronte questi sono tutti i processori penguin quindi quelli a 20 qubit che abbiamo visto prima quindi l'hosting adesso ritorno rapidamente giusto per farvi vedere stiamo parlando di questo in alto a sinistra che era molto connesso e questo creava un alto tasso di errore nelle misurazioni siamo arrivati invece al bubbling che riesce a comprimere gli errori dei vari qubit molto vicini all'1% all'1-2% e stiamo continuando a lavorare su questo fronte proprio per questo abbiamo creato una metrica alcuni di voi la conosceranno che riteniamo sia più adeguata per misurare la vera potenza di un computer quantistico che è il quantum volume il quantum volume tiene conto ovviamente del numero di qubit ma tiene anche conto di tutti gli errori il tempo di coerenza la gate fidelity e via dicendo adesso non sto a leggerveli tutti che caratterizzano un processore quantistico non è detto che il processore quantistico con il maggior numero di qubit sia poi quello che abbia la potenza maggiore perché magari è affetto da maggior errore e rumore quindi questa è la metrica per misurare la potenza dei nostri processori che usiamo e quella che noi proponiamo per poter comparare più processori ecco per farvi vedere i computer quantistici che noi mettiamo a disposizione al pubblico quindi non quelli nostri che usiamo per ricerca internamente ad IBM Research qui vedete che abbiamo superato i 25 in numerosità nel 2020 ma la cosa molto interessante sono i colori con cui li abbiamo colorati allora il QV sta per quantum volume quindi nel 2017 noi avevamo un volume un quantum volume quindi quella quantità che ho appena raccontato di solo 4 l'anno successivo 8 16 32 addirittura quest'anno abbiamo fatto un doppio salto a 64 avrete tutti intuito la progressione di raddoppio quindi esponenziale di raddoppio ogni anno il che ci fa ben sperare in una possibilità di avere una legge di Moore anche per i computer quantistici tra l'altro la legge di Moore è stata dedotta da solo 4 punti quindi anche qui ne abbiamo 4 anzi 5 quindi speriamo bene che non soltanto come dicevo prima il numero i qubit aumenterà e quindi ci permetterà di far girare degli algoritmi sempre più complessi ma anche la potenza e quindi l'aggregato di numero i qubit con la gestione degli errori arriverà a livelli molto alti che appunto ci porteranno ad avere presto nei prossimi anni un vantaggio quantistico in molti degli algoritmi che noi possiamo far girare la seconda componente oltre alla parte hardware che ho discusso fino adesso è il framework software noi abbiamo aperto appunto nel 2016 una piattaforma che si chiama IBM quantum experience adesso mi sgancio un attimo dalle chart e vado sul mio browser chiunque di voi probabilmente molti lo hanno già fatto può collegarsi con il sito dell'IBM quantum experience quantum quantum meno computing punto ibm punto com cercando su google IBM quantum computer trovate molto rapidamente è possibile creare un account con la facilità diciamo della creazione di un account di posta all'interno qui voi vedete i computer quantistici a vostra disposizione e anche il carico di job di quindi di lavori che sono stati sottomessi ai computer da tutto il mondo quindi vedo che stanno lavorando in tanti abbiamo anche un simulatore a 32 qubit classico su cui si possono fare delle prove abbiamo un processore ad un qubit armonk che ci permette di fare delle prove hardware di gestione degli impulsi quindi andiamo a vedere e a variare il tipo di impulsi che va sul singolo qubit quindi è un tipo di esperimenti che va al di là della computazione quantistica sugli algoritmi e lavora sulla calibrazione del qubit stesso molto interessante anche questo e per ogni processore possiamo andare a vederne le caratteristiche quindi stiamo osservando questo abbiamo la topologia il codice colore ci dà l'affidabilità di ogni singolo qubit e l'errore di diciamo entanglement quindi dal punto di vista più tecnico è l'applicazione di un gate c not control not e tutte le caratteristiche del processore compreso quando è stata fatta e anche ora l'ultima calibrazione del processore stesso da questa stessa piattaforma voi siete in grado di avere sia un tool di programmazione grafico che tra l'altro anche per chi lo usa spesso noi lo usiamo in molti diciamo corsi anche appunto universitari che facciamo insieme a voi perché è molto didattico ma so che molti di voi lo usano in maniera anche indipendente da noi per i vostri corsi è stato arricchito quindi anche per quelli che già lo usano può essere interessante andare a vederlo quest'estate è stato è stato arricchito e diciamo ogni cubito viene rappresentato come una riga e questi sono gli operatori quantistici con tanto poi di diciamo glossario possibile andare a studiare nel dettaglio cosa fa ognuno e diciamo posso andare a creare la mia programmazione quantistica il mio circuito con un semplicissimo drag and drop e qui appunto ho tutte le caratteristiche dello stato che andrò a realizzare è quello che che io mi aspetto quindi il gate H tra l'altro è il gate di Adamard che crea la sovrapposizione sul sul cubit 0 quindi andando a togliere per esempio il cubit 1 andando a lavorare sul singolo cubit io creo una situazione in cui ho a 50% lo stato 0 e a 50% lo stato 1 lo posso vedere qui con le probabilità di misura in questo caso in questo momento previste perché ancora non ho fatto delle misure e posso anche andare a vedere l'ampiezza di probabilità della funzione d'onda che in questo caso è questo 0,707 che non è altro che l'1 sul radice di 2 e non vado oltre su questo tema ovviamente aggiungendo un cubit è possibile utilizzare il gate cnot che vi dicevo per creare l'entanglement qui in due click abbiamo creato uno stato di bell in cui al 50% ho lo stato 0,0 50% l'1 accanto a questo al tool grafico ho invece un sdk python per la programmazione utilizzando dei notebook python sia online sia e qui ho aperto diciamo il mio python jupiter notebook diciamo sulla mia piattaforma e qui è possibile andando ad importare il pacchetto quiz kit quantum information software kit è possibile andare proprio a scrivere la nostra programmazione quantistica direttamente dentro un notebook python una cosa molto interessante della nuova interfaccia è che io direttamente dal circuito andando qui su code posso andare quiz kit posso andare a vedere il codice che dovrei scrivere all'interno del mio notebook python per realizzare questo circuito quindi in maniera da un punto di vista didattico è fantastico perché riesco a passare dal tool grafico alla programmazione python in maniera del tutto fluida quindi tutte le volte che poi io vado ad aggiungere qui vedete si aggiungono righe di codice torno sulla mia presentazione queste carte ve le ho fatte vedere direttamente sul sulla piattaforma il quantum information software kit consta oggi di quattro moduli terra è quello di programmazione base il modulo ignis permette di applicare funzioni di riduzione e mitigazione dell'errore la componente hair riguarda invece la parte di simulazioni tutti quei grafici che vedevate sotto erano delle simulazioni perché ancora non avevamo fatto girare su una macchina quantistica l'algoritmo e invece acqua è una libreria di algoritmi già preconfezionati quindi anche chi non conosce la programmazione quantistica può usarli per appunto all'interno del del proprio lavoro quotidiano quiz kit è un oggetto open source trovate tutto su vtab e anche una serie di tutorial molto vasta con una comunità che ci lavora intorno molto grande tra l'altro quiz kit non lavora soltanto sui processori IBM ma è un software kit indipendente dall'hardware per esempio abbiamo fatto una partnership con Alpine Quantum Technologies che fa processori ad ion trap e quindi è possibile anche programmare processori con altri tipi di tecnologie utilizzando lo stesso software kit questo strumento dal 2016 ha visto quasi 300.000 autenti registrati più di 300 miliardi di circuiti sottomessi e fatti girare diciamo dalla macchina il numero di computer è a disposizione al pubblico abbiamo già visti la Quantum Network ci arriviamo tra pochi minuti abbiamo anche molte collaborazioni con l'industria e vari paper scientifici alcuni anche italiani pubblicati utilizzando il nostro computer quantistico questi sono i paper pubblicati da noi che ovviamente non sono contati in quei 200 questo è il 2017 su Nature in cui siamo andati con dei processori molto piccoli 2 qubit 4 qubit e 7 qubit a ricostruire i livelli energetici della molecola di idrogeno dell'idrulo di litio e dell'idrulo di beriglio come vediamo nel 2017 i punti non erano perfetti per questione di errore e già con una sola mitigazione degli errori da un punto di vista software e qui torna il pacchetto Ignis di cui parlavo prima siamo stati in grado invece di fare un fitting ottimale della curva ovviamente questi sono calcoli che su un computer qualsiasi possono essere fatti in maniera classica ma abbiamo guadagnato la copertina di Nature proprio perché con questi stessi algoritmi utilizzati su processori molto più potenti si potrà andare ad indagare delle molecole che oggi riusciamo ad indagare soltanto con metodi approssimati abbiamo anche una pubblicazione dell'anno scorso in ambito machine learning in particolare sulle support vector machine utilizzando appunto un metodo quantistico ok io mi fermo certo mi fermo qui perché è il momento io volevo intervenire giusto per diciamo trarre una parte di quello che hai detto cioè nel senso che il quantum computer esiste che quindi già è una cosa che non tutti sanno ma diciamo la maggior parte delle persone collegate lo sa bene è utilizzabile e rispetto a quello che c'è le indicazioni che sono state date ad oggi c'è la possibilità di simulare il quantum computing perché c'è una necessità non solo di tecnologica di costruzione ma anche di riscrittura di quelle che sono i vari strati software e grazie a un simulatore si possono fare delle formazioni formazione all'interno dell'università e del mondo della ricerca che consente poi dopo un utilizzo ottimale dello strumento vero e proprio messo a disposizione in questo caso da IBM per poter risolvere già dei veri problemi quindi diciamo è un qualche cosa di utilizzabile c'è una possibilità grossa per questo anche lui si è fatta promotrice diciamo di ha supportato questa questo webinar c'è una grossa possibilità dell'utilizzo nel mondo soprattutto della ricerca e della didattica di questo strumento e di questi strumenti in generale esattamente così diciamo a disposizione delle università ad oggi anche for free diciamo quelli più semplici più piccoli che avete visto prima ci sono sia i simulatori che i processori veri quindi qua io questo algoritmo qua ovviamente devo mettere una misura alla fine io questo algoritmo qua devo mettere delle misure alla fine posso farlo girare su e qui diciamo vedo il back end sia su dei processori veri che sono questi che vedevamo prima sia sul simulatore ok il simulatore ovviamente è un HPC che vi permette di arrivare fino a 32 qubit mentre invece i processori al momento a disposizione for free arrivano fino a 15 cosa vuol dire questo se voi avete diciamo un algoritmo che ha bisogno di più di 15 qubit fino a 15 potete andare sulle macchine reali ok se avete invece necessità di avere magari 25 30 qubit potete usare questo simulatore se siete arrivati a un punto in cui la vostra ricerca ha raggiunto diciamo qualcosa di interessante e avete bisogno di farli girare sui processori veri parliamone ok poi invece arriviamo invece al tema successivo su cui però voglio fermarmi un secondo che è invece un modello di collaborazione molto più stretto quindi non il singolo esperimento ma qualcosa di più ampio Federico ci sono una decina di domande che mi sembrano tante però non so se puoi cominciare a provare a questo momento per far rispondere a qualcuno questo è un momento buono magari ne prenderei due o tre se mi fai una selezione e poi le altre le rispondo tutte via mail allora io ne ho selezionata una poi magari ne selezionate altre allora Sara Capotosti ci chiede buonasera ho letto tempo fa che l'introduzione dei computer quantistici determinerà grossi problemi di sicurezza perché tali computer saranno in grado di rompere in poche ore i tradizionali algoritmi di crittografia basati sulla scomposizione in fattori dei numeri primi se è così è giusto dire che non ci sarà mai una fase di transizione ibrida in cui conviveranno computer quantistici e computer classici IBM riuscirà a mettere sul mercato computer quantistici alla portata di tutti grazie ok allora sono una serie di domande per quanto riguarda la prima allora è già noto esiste già tra l'altro dal 1994 l'algoritmo di Shore che è un algoritmo che permette di fare la scomposizione in fattori primi utilizzando metodi di computazione quantistica con diciamo con dei tempi estremamente ridotti rispetto a un computer classico in particolare al crescere del numero di digit non ho una crescita esponenziale del tempo di calcolo come per un computer classico che diciamo è il meccanismo che noi sfruttiamo per la crittografia RSA ma una crescita di tipo polinomiale quindi questo sicuramente fa allarmare insomma i giornali ovviamente sono contenti di cavalcare la notizia la realtà è che l'algoritmo Shore è uno di quegli algoritmi che ha bisogno di un grande numero di qubit e soprattutto di qubit molto precisi quindi ci aspettiamo che un tipo di computer di quel tipo probabilmente arriverà tra non voglio sbilanciarmi a sicuramente più di cinque anni cosa vuol dire questo? vuol dire che abbiamo tutto il tempo in realtà già lo stiamo facendo di studiare degli algoritmi di crittografia post quantum o quantum safe come si chiamano c'è tutta una branca della crittografia che si occupa proprio di questo e già ne abbiamo identificati vari non soltanto noi ma insomma voglio dire la comunità scientifica e quindi la cosa più probabile che vedo è che pian piano cominceranno a diciamo diffondersi degli algoritmi quantum safe che sostituiranno gli algoritmi RSA e tutti quelli che fanno leva sulla fattorizzazione o su algoritmi di tipo simile e gli unici probabilmente gli unici enti che devono andare con maggior fretta sono quegli enti che sono costretti a garantire che l'informazione resti criptata per più di dieci anni e quindi sto pensando a degli enti diciamo che garantiscano sicurezza diciamo di un certo livello lì è importante cominciare da subito a studiare questi algoritmi e ad implementarli per quanto riguarda noi che facciamo l'encryption diciamo della carta di credito e via dicendo io credo che avremo tutto il tempo di avere degli algoritmi quantum safe nei prossimi anni per quanto riguarda la disponibilità dei computer quantistici a tutti che era la parte finale della domanda già adesso insomma stavamo vedendo sono disponibili per tutti ovviamente piccoli però diciamo ci aspettiamo che sempre più saranno disponibili e nella parte che adesso andiamo a vedere cerchiamo di capire se si può aprire una collaborazione con le università italiane proprio per dare accesso invece ai processori più potenti che erano quelli che vedevati nella road map un'altra domanda veloce o se vogliamo non so se qualcuno della nutrita redazione della della qui vuole leggere qualcos'altro io qua vedo Giovanni Acampora dice la formula per il calcolo del quantum volume è pubblica inoltre ho visto che i grafi modellanti le tipologie dei vostri processori sono lontani dall'essere completamente connessi ciò limita notevolmente la possibilità di mettere direttamente in entanglement coppie di qubit forzando sta chiedendo molto tecnica la domanda il transplitter di IBM a inserire gate di swap aggiuntivi che aumentano l'errore di decorrenza dei circuiti implementanti mi sembra molto mi chiedevo il quantum volume tiene conto del suddetto livello di connettività delle topologie dei processori ok allora intanto Giovanni Acampora che conosco e saluto con piacere il dettaglio ovviamente tecnico lo vediamo però il quantum volume assolutamente c'è un articolo pubblicato che posso poi condividere magari lo metto a disposizione di tutti faccio avere a te Jürgen il link c'è un articolo a disposizione di tutti per il calcolo per vedere come si calcola diciamo il quantum volume il quantum volume tiene conto anche della connettività all'interno del processore diciamo che come vedevamo come abbiamo visto sui modelli di connettività inizialmente si era cercato di dare una connettività maggiore tra i i qubit e si è visto che questo innalzava il livello di cross talk in maniera eccessiva e quindi abbassava di molto il quantum volume quindi è frutto ovviamente al momento ancora di un trade off poi comunque magari do una risposta più più tecnica che richiede qualche qualche minuto in più allora dunque io passerei in modo da avere anche tempo per discutere questo tema molto importante sull'altra parte poi tutte le direi soltanto Federico direi soltanto siccome ci sono molte domande a cui chiaramente per motivi di tempo non possiamo rispondere qui risponderemo però a tutte quante quindi le possiamo le diamo diciamo così come indicato in apertura le raccoglieremo e insieme IBM risponderemo a tutte e poi le renderemo disponibili magari come FAQ piuttosto che a tutti i partecipanti insomma prego chiedo scusa per non poterlo fare ma credo per correttezza insomma sia corretto chiudere in tempo e toccare tutti i temi ma sicuramente risponderemo a tutte le domande allora dunque nel 2017 IBM oltre alla parte open che per adesso abbiamo visto ha aperto invece una comunità chiamata IBM Quantum Network con i tre obiettivi che vedete enunciate in questa carta quindi accelerare la ricerca sul computer quantistico sviluppare le prime applicazioni commerciali per la ricerca in ambito per i computer quantistici e promuovere appunto l'education quindi diciamo l'istruzione sulla computazione quantistica quindi diciamo per tutti quelli che si vogliono confrontare con la computazione quantistica e cominciare ad averci a che fare c'è il quiz kit questo questo framework open source e i processori più piccoli per tutti gli altri per quelli che invece vogliono collaborare in maniera più stretta con noi seguendo questi obiettivi che abbiamo visto c'è la possibilità di entrare all'interno della Quantum Network che dà questi vantaggi il primo è di accedere alla tecnologia di ultimo livello dei computer quantistici quindi ad oggi 64 di Quantum Volume e 65 cubit ma già il prossimo anno prevediamo 127 cubit che comincia a diventare un numero importante ovviamente tutta la parte di corsi e di supporto ma questo forse ha più senso per le aziende e la collaborazione in ambiti di ricerca quindi al momento ovviamente per collaborare con IBM Research su questi temi ci sono degli accordi specifici ma entrando all'interno dell'IBM Quantum Network c'è una collaborazione molto più stretta sia con IBM Research sia con i partner industriali perché poi è un punto di incontro come vedremo tra università e aziende perché le aziende hanno molto bisogno della collaborazione con l'università per imparare a lavorare su questi temi perché è una grossa rivoluzione come abbiamo visto non solo sull'hardware che si compra ma anche sui linguaggi e sugli algoritmi cosa su cui all'interno delle aziende c'è meno preparazione e poi entrare a far parte della comunità e quindi da un punto di vista proprio di relazioni l'anno scorso abbiamo organizzato un evento internazionale in cui tutti i membri della Quantum Network hanno partecipato hanno avuto la possibilità di condividere le proprie idee e la propria esperienza quest'anno ovviamente purtroppo solo virtuale speriamo di poter presto riorganizzarlo fisicamente uno tra tutti cito uno importante ingresso all'interno della Quantum Network è quello del Fraunhofer Institute per volontà del governo tedesco stesso che ha stanziato una grossa cifra per le tecnologie quantistiche e appunto addirittura in questo caso noi installeremo su suolo tedesco un computer quantistico nonostante anche questo sarà all'interno di Facility IBM gestito da IBM anche perché come vedete di anno in anno ci sono dei salti tecnologici così vasti che comprare una macchina avrebbe poco senso e questo processore appunto il Fraunhofer lo metterà a disposizione delle università e delle aziende tedesche questo è uno dei casi quello forse a noi più vicino anche il più grosso ma ce ne sono tantissimi questo è l'elenco aggiornato a questo mese dei membri della Quantum Network come vedete sono divisi in tipologie ci sono dei membri di tipo partner che sono partner industriali la maggior parte sono aziende gli hub la maggior parte di questi sono centri di ricerca e università che fanno da punto diciamo di riferimento per le aziende e i centri di ricerca del territorio e il Fraunhofer Institute è tra questi ma anche l'Università di Tokyo che ha fatto un accordo similare qualche mese fa e poi ci sono dei membri che sono principalmente industriali le start up e poi c'è una parte di membership che è accademica è possibile entrare singolarmente come singola università oppure appunto in modalità hub concordando tra più università o avendo un'università che fa da capofila o un centro come può essere cui o qualche altro ente diciamo accentratore che poi fa da coordinamento di tutte le facility che abbiamo visto prima io direi che mi fermo qui ho un paio di minuti per ulteriori domande io posso anche trattenermi qualche istante ma ci tenevo a finire in tempo per non rubarvi sì Federico facciamo così per un problema tecnico credo che tu non veda le domande nella Q&A però te le stiamo mettendo nella chat che invece leggi credo nella nostra quindi magari mi sposto non so se ok chiedo ai miei colleghi di supportarmi in questa operazione di trasferimento delle allora così puoi leggere magari siccome ho visto che ci sono molte domande allora dunque la risposta che provo a darne a una poi evidentemente poi il tempo è quello che è la risposta che posso dare a Pietro Bonatti per quanto la leggo a tutti ovviamente se la misurazione fa collassare ogni qubit su 0 e su 1 com'è possibile che con 160 qubit sia possibile rappresentare qualcosa che con i bit classici ne richiede 10 a 48 al momento dell'osservazione le possibili configurazioni saranno 2 alla 160 allora qui dobbiamo distinguere tra rappresentare e misurare ok io posso fare l'encoding di tutto ciò ma come abbiamo detto poi al momento della misurazione io perdo queste informazioni cosa vuol dire che io posso fare l'encoding e poi diciamo fare un'evoluzione fare un calcolo e magari cosa voglio calcolare diciamo con con la configurazione con tutte le configurazioni della molecola della caffeina lo stato energia minima per esempio allora ecco implemento su questo un algoritmo che lavora in regime quantistico quindi non sto facendo misura e alla fine faccio la misura e quindi ciò che ottengo è un numero piccolo cioè non sono le due alla 160 configurazioni ma sono ma le informazioni che io sto cercando quindi io non ho tutta la rappresentazione come informazione che poi posso utilizzare nella sua completezza ma la posso usare per farci dei calcoli e quindi per imparare qualcosa il livello minimo di energia l'interazione con altri con altre molecole e via dicendo ecco io non so se riesco a star dietro io spero di aver risposto magari se poi condividerete anche il mio indirizzo se mi cercate sul link insomma ovviamente possiamo andare avanti con la discussione allora qui c'è una una domanda su qual è la taglia massima dei problemi risolvibili con questa quantità di qubit diciamo che dipende molto dal tipo di algoritmo come abbiamo visto sull'algoritmo di Shor riusciamo a fattorizzare il 15 che diciamo ci viene facile con i qubit free che abbiamo oggi per alcuni per alcune tipologie di problemi appunto come quello di Shor c'è bisogno di tanti qubit che per creare insomma una serie di entanglement concatenati per altri problemi ne servono meno o comunque riesco a usarne meno per dei toy model come quelli che abbiamo visto sugli atomi di sulle molecole di idrogeno o di idrulo di litio e quindi su quelli quantomeno io riesco a costruire un toy model diciamo gestibile poi da lì in poi devo aspettare che arrivi un processore più ampio quindi diciamo c'è sia un limite da un punto di vista dell'informazione che riesco a mettere è evidente che su 15 qubit non riesco a mettere infinita riesco a mettere diciamo una certa quantità e poi c'è anche un limite da un punto di vista del tempo c'è un tempo di coerenza questi processori restano in regime quantistico per un certo tempo però un tempo di diciamo qualche decina di millisecondi che ci permette di effettuare qualche migliaio di operazioni dipende molto dal tipo di problema e che dalla dimensione veramente del problema proprio volendo semplificarlo al massimo ci sono dei problemi che vengono facili nella risoluzione e matchano già con tutto quello che ci sta adesso e dei problemi che necessitano di un uno step successivo esatto esattamente allora grazie mille no diciamo vedo una domanda sull'articolo sulla support vector machine ve lo mando nelle risposte così è più facile collego anche il link sulla modalità di determinazione degli errori dei qubit è una cosa abbastanza complessa magari anche su questo collego un articolo funzionamento dell'architettura dei processori canoni e penguin qubit può essere emulato da software su computer ordinaria risposta è sì diciamo dipende dalla tipologia di computer ordinario se non si riesce sul computer ordinario perché già 20 qubit comincia a essere un numero cioè penguin su 20 qubit è più facile sul 20 qubit diventa essere più difficile però abbiamo come avete visto il simulatore a 32 qubit on the cloud si può tranquillamente simulare su quello non solo ma ci sono delle modalità adesso questo posso condividerlo per simulare non 20 qubit classici e basta ma 20 qubit di quella architettura canarin scusate penguin quindi quello specifico la tipologia dei processori con quella connettività con quegli errori questo è molto utile perché ci permette di capire di fare una simulazione più esatta di come quel calcolo verrebbe su quel processore quindi diciamo si riesce ad andare anche nel dettaglio anche su questo posso condividere dei link non so non vorrei sottrarmi le domande ma vedo che abbiamo già passato 5 minuti se volete posso rispondere poi al resto via mail vedo che ce ne sono ancora tante sì guarda un'altra domanda dai un'altra domanda così perché sono veramente tante e quindi a questo punto visto che ci sono molte persone collegate sono rimaste tutte lì non si sono mai disaffezionate quindi c'è molto interesse quindi magari se riesce una o due domande che pensi siano quelle più interessanti di formazione per dottoranti ricercatori programmati in Italia diciamo al momento non abbiamo un programma in Italia se all'interno della vostra università avete voglia di organizzare un seminario noi siamo contenti di venire una cosa che posso condividere e condividerò come link è stata una summer school che abbiamo fatto quest'estate sono 30 ore disponibili su YouTube con tutti i Jupyter notebook di esercitazione anche a disposizione e sono devo essere sincero da un punto di vista didattico veramente fatti molto bene io stesso li ho seguiti con grande piacere e spaziano dalla programmazione a come è fatto l'hardware anche andando ad analizzare come si gestisce la programmazione del singolo pulse che va sul sul processore quindi quello diciamo in inglese ma questo può essere un ottimo programma di formazione per esempio individuale per gli studenti dottorati di più ampio respiro come organizzazione al momento non ne abbiamo come visibilità ma possiamo ovviamente condividerli quando quando saranno organizzati diciamo è anche questo lo spirito in cui noi abbiamo organizzato questo questo webinar visto che è una materia che è sempre di più indipendentemente da IBM cioè è una materia che è sempre di più al centro della ricerca è importante che si riesca a fare in qualche modo anche sinergia tra gli atenei per creare dei punti comuni su questi argomenti su cui poi dopo far crescere le generazioni che poi utilizzeranno questi questi strumenti per trovarci già al passo perché diciamo in Europa e soprattutto nel mondo negli Stati Uniti già c'è un grosso sviluppo di queste materie mentre da noi siamo ancora in una fase un po' di nicchia ed è fondamentale cercare di recuperare questo gap e soprattutto in un periodo come questo dove i laboratori sono in qualche cosa di abbastanza complicato perché la presenza negli istituti e nell'università è abbastanza complicata sfruttare questa possibilità di creare di utilizzare questi laboratori virtuali è una cosa molto importante che dobbiamo cercare di tutti insieme realizzare e utilizzare meglio a proposito di fare sinergia chiederei magari a Federico di rimettere la slide con la Q-Network da chi è partecipata in realtà diciamo vi sarebbe la possibilità di partecipare quindi a questa rete mondiale sul quantum computing di IBM sì allora adesso recupero intanto recupero anche la slide che avevo chiesto insomma una rete mondiale partecipata da importanti di università e istituti a cui le università italiane potrebbero partecipare al riguardo poiché diciamo la partecipazione a questa rete è onerosa e l'impegno insomma non è potrebbe essere insomma come dire importante vi sarebbe la possibilità per le università di partecipare come raggruppamento e quindi di vedere in qualche modo diminuito insomma l'impegno insomma della FI che è richiesta per partecipare a questa rete quindi diciamo a proposito di sinergie Giovanni per consentire si può dire nello stesso periodo in cui è nato l'HPC il momento in cui nasceva l'HPC c'erano le code sono nate le code da lì sono nate le code lo studio delle code per ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture di questi mega mind frame che esiste all'epoca oggi in maniera uguale esiste questa rete mondiale dove si può partecipare dove come dicevo prima secondo me c'è prima la palestra dalla palestra quello che diceva pure Federico cioè dalla palestra si passa poi dopo all'implementazione ma poi se il problema è veramente serio è degno di essere sviluppato e calcolato andarlo a fare su processori seri e veri e reali per ottenere e questo si può realizzare come vedete non sono solo aziende all'interno ma ci sono tantissime università e se le scorrete io non ne vedo italiane quindi diciamo è una cosa per me fortemente negativa partecipare come un unico hub a livello italiano fa da maggior forza anche al paese per qualche cosa che secondo me è il futuro e quindi se non si realizzano queste nuove leve che lavorano su queste cose noi ci troveremo indietro come invece l'HPC noi eravamo tra i promotori e i primi nel mondo nello sviluppare sì diciamo che da questo punto di vista abbiamo chiesto disponibilità ad IBM e chiaramente nell'ambito delle relazioni che abbiamo con loro si sono dimostrati insomma favorevoli ad un possibile raggruppamento di università per partecipare a questa rete diciamo con delle condizioni quindi migliorative quindi se ci fosse il messaggio che vi possiamo dare come al solito è se c'è interesse fateci sapere il vostro interesse noi poi verificheremo tramite IBM se sarà possibile appunto apportare modifiche miglioramenti a questa adesione alla Qnetwork Federico non so se stavi ancora dicendo qualcosa allora stavo scorrendo diciamo le domande sono varie posso posso tornarci ovviamente sì anch'io sarei molto contento di dare la possibilità anche all'Italia di entrare in questa network perché girando ormai negli ultimi 3-4 anni in università italiana e molte delle persone collegate credo mi conoscano ho visto tantissime eccellenze e c'è veramente un tantissimi gruppi di ricerca sparsi in tante università devo essere sincero ma con con grandi picchi di eccellenza e quindi mi piacerebbe molto poter dare questa possibilità anche alle università italiane detto ciò qui vedo che viene chiesto se ci sono delle librerie di quantum chemistry la risposta è sì sul quiz kit si trovano ma comunque nelle risposte scritte poi manderò un link specifico ci sono anche domande per quanto riguarda machine learning ed AI ovviamente approfondirò anche nei link non si riusciva oggi ad essere a toccare diciamo tutto nell'approfondimento vediamo se riesco allora qui ecco qui c'è una domanda più tecnica nel punto di vista hardware qual è l'area occupata da ciascun qubit sul chip qual è la dispersione di potenza per qubit essendo semiconduttore la dissipazione deve essere molto piccola ma se può essere necessaria se aveste la necessità di grossi dilution refrigerator immagino che la potenza refrigerante richiesta non sia trascurabile sì diciamo l'idea è il qubit sul chip sono qualche passione di millimetro quindi è visibile a occhio umano ma è abbastanza piccolo e al momento con appunto un numero di qubit che abbiamo oggi che arrivano fino a una sessantina la dispersione non ci crea problemi con i dilution refrigerator che abbiamo oggi però è evidente che sul qubit arriva un impulso elettromagnetico evidentemente non può far altro che riscaldare e questo ovviamente crea problemi quando io voglio su un singolo processore mettere un migliaio se non di più addirittura voglio mettere un milione di qubit quindi questo è uno dei temi che fa parte del grosso trade off che bisogna affrontare quando io vado a costruire un computer quantistico tendenzialmente i tre punti diciamo che tirano ognuno per la direzione sua sono la controllabilità quindi con gli impulsi elettromagnetici io punto molto sulla controllabilità perché sono molto controllabili siamo molto bravi e precisi con gli impulsi elettromagnetici e la scalabilità quindi la possibilità di mettere più qubit e il tempo di coerenza quindi la permanenza nello stato spesso se io vado ad aumentare una poi diminuisco l'altra quindi in questo caso se io aumento troppo il numero di qubit vado a perdere in coerenza proprio a causa anche di questi temi legati alla dissipazione che aumenta una temperatura e appunto come diceva la domanda ma praticamente ha già la risposta all'interno della domanda stessa e c'è bisogno di questi di questi frigoriferi proprio per mantenere la temperatura a quel livello che obiettivamente è molto basso dunque vediamo domande 36-40 domande abbiamo risposto solo ad alcune evidentemente però allora rimaniamo d'accordo con Federico Mattei di IBM di raccoglierle tutte quante in modo tale che possiamo dare risposta e pubblichiamo delle FAQ sul nostro sito della CRUI insieme alla registrazione e poi valutiamo eventualmente se fare dei webinar di approfondimento insomma diciamo che la partita è tutta aperta insomma assolutamente visto la richiesta visto le domande più c'è interesse da parte vostra come sempre verso questo tipo d'argomento alla CRUI noi siamo il vostro tramite come sempre abbiamo detto per poter parlare con le major con le aziende il BM si è sempre mostrata ha avuto sempre un occhio di riguardo per gli atenei italiani nonostante diciamo la dimensione internazionale dell'azienda quindi più fate richiesta di attività e di interesse noi più siamo ci dà demandato per poter intervenire sulle aziende bene allora io vi ringrazio tutti ringrazio Federico Mattei Giovanni Barone Fabio Agostino e Valerio Vajusco che sono collegati con noi del gruppo di lavoro ICT della CRUI e che hanno dato supporto e vi do appuntamento ai prossimi webinar ICT della CRUI che troverete sul nostro sito arrivederci a tutti grazie